altre escursioni in valle aurina oggi partiamo da predoi e dobbiamo raggiungere il lago di selva o waldner sea prendiamo il sentiero 16b per poi tornare per il 15a abbiamo scelto un giro non troppo lungo dovrebbe essere sulle 4 5 ore un po per il tempo che al solito non promette troppo bene per il pomeriggio siamo stati un po sfortunati in questa settimana è un po perché il mal di gambe dalla lunga camminata di ieri sul diffuso tridentina andatevi a vedere il video se non l'avete già visto si fa abbastanza sentire l'inizio del sentiero è dal centro di predoi si segue il 16b che corre lungo strada asfaltata quella che stiamo facendo noi adesso per poi mettersi dentro il bosco abbiamo trovato il bivio per la malga waldner alm da una parte segna due ore un lattiera tranquilla nel bosco dall'altra si risparmia mezz'ora perché sale più ripida nel bosco finita la salita nel bosco abbastanza micidiale in una quarantina di minuti siamo saliti di quasi 400 metri per cui si è fatta veramente tanto sentire su gambe fiato il tempo purtroppo abbastanza fosco speriamo almeno resti così finché non arriviamo al lago mancano ancora 20 minuti al lago e la situazione nuvole è un po' così un po' di nuvole basse in due ore 20 siamo arrivati al lago waldner o lago sella alle mie spalle purtroppo non ci fermeremo tantissimo perché il tempo è abbastanza in movimento potrebbe schiarirsi ma davvero abbastanza dura anche oggi sarà una giornata un po' così e così comunque lago molto carino il sentiero per arrivarci non è difficile è un po c'è un po di salita saranno sugli 800 900 metri di dislivello ma con un po di calma ci si può arrivare grazie 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 qui l'acqua è veramente super limpida ti do 50 euro se mettiti qua i piedi in ammollo 3, 2, 1, dopo un ottimo e rinfrescante pediluvio continuiamo a scendere per il sentiero 15A che ci dovrebbe riportare direttamente al paese di Predoi siamo a 2200 metri su questa vallata veramente fantastica anche se il tempo è un po' bruttino e abbiamo altri 800 metri da scendere penso di non aver mai visto un'acqua così limpida scendendo per questa mulattiera ci dobbiamo ricollegare al sentiero 16B che è quello per cui siamo saliti per l'andata e poi fare ritorno al paesino di Predoi Predoi o Prettau in tedesco come lo indicano sui cartelli ancora pochi metri e avremo fatto ritorno al paesino di Predoi l'escursione è durata più o meno 5 ore, 5 ore e mezza con qualche pausa di mezzo è un giro molto bello per un paio di punti soprattutto cioè quando si arriva al lago e nella vallata che si raggiunge poi scendendo per il sentiero 15A l'escursione nel complesso è un po' impegnativa più che altro per il dislivello che si copre dalla partenza all'arrivo poi per il resto il sentiero è abbastanza tranquillo con questo è tutto noi ci salutiamo ovviamente iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima escursione ciao